E i pompieri corrono. Questa mattina nelle prime ore del giorno ci hanno avvisato forse un po' in ritardo e non è bello fare queste riprese, non piace a nessuno, nessuno le gode. E questo lennesimo incendio oggi 7 agosto, spero di non sbagliarmi, sì è il 7 agosto, ecco qui subito dopo la galleria che porta a Città del Mare lo scempio che troviamo, sono venuti i pompieri ci dicono e hanno spento l'incendio. Qui è la discarica tranquillamente abusiva che abbiamo lungo la stradina che costeggia la statale. La voglia di Antonello Dandazzi, gliel'ha detto a mio marito, è uno schifo! Un fronte di oltre 100 metri, ancora i rifiuti fumanti e questo è tutto.